Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono semi al buio, sentirete un po' di tv, un po' di casino perché è pomeriggio, però ero molto curiosa di farvi questo video dove seguirete la luce e parlerò relativamente poco. Allora mi ripeto questo dolce, che si ricarica l'USB. Questa è una torta in sé, anche molto rigorosa, si apre così per farlo. Qui c'è il suo tastino e da qui c'è lo sportellino dove caricarlo. Molto carina, molto bella. Grazie. Bando alle ciance, mi sono avvicinato un po' e iniziamo. Segui, 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 segui la luce. Di qua, a terra, alla mia destra. Sì, ora facciamo un momento. Rilassi, adesso è qui solo la luce. Rilassi, adesso è qui solo la luce. Rilassi, adesso è qui. Sicuramente ci saranno altre persone che l'avranno fatto, ma io non so né come l'avranno fatto, né quando. Quindi io sto facendo tutto come mi viene. Comunque, una volta che l'aprete, questo si illumina. Diverte. Ha varia intensità. E passa. E poi c'è questa, un po' Pizzicatelica. E' effetto discotenga. E' effetto discotenga. E' effetto. E' effetto. C'è la mia vita. E' effetto. cambio di nuova intensità Grazie a tutti. 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 Sotto, centrale, sopra, sinistra, sinistra, sotto. Faccio il contorno del mio cellulare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.